c'è raga ma io non ci credo c'è ho laggato per un minuto e me si è spenta la registrazione vabbè comunque non è che ho trovato l'unico ho trovato due tif ho aperto 8 special ppac l'unico buono è aspettate sta un pochetto sotto un pochetto poco sotto ecco qua non so dove sta sopra sentitemi che faccio così ecco questo qua però ha laggato tutto quando ho trovato valeri gli frega oh però non è che sti fa se mi dai la guè tu non mi puoi fare questi scherzi tu non mi puoi fare questi scherzi gioco tu sei un pezzo di merda me lo fa lo stesso con lo once to watch me lo fa uguale vabbè altro gif tanto non che c'è ciao raffa vabbè ci apriamo così coi tu che stai what's the watch giovingo giovingo what's the watch lo accettiamo tanto non me ne frega a me i fangora angoro ti fangora me guai me guai me guai te prego oh eccolo walk out eccolo walk out brasil e che case miro case miro carata o inui mi piace voto 10 e da e che ci abbiamo tanti togans e dai almeno un toti sito magari te prego te prendo no no vabbè io ma non è possibile non è possibile basta rega io spacco il non c'è sa di rigna spacco ma tu mi puoi dare i rari gli orari bull cow e ames rega io non so che dire 88 ames rodriguez è buono anzi non è buono è buonissimo però come si dice chi non risica come si dice chi non risica ma no ma no ma no ma io mi sto zitto e naturalmente io ve li avrò a fare questi video che sta andando oh my cazzo once to watch da schifo fred io ancora non c'ho ronato once to watch che belli se non te danno i if danno i once to watch schifosi finalmente un carnival che è carnival nostra del futuro stella del futuro brasile real ma no no arto almeno finalmente almeno qualcuno ti ascolta tipo il gioco tipo il clero tipo de marcos l'ultimo e poi ci apriamo quello da 3 tokens meretto meretto spina pezzella da vabbè vabbè niente che nakagawa proprio e adesso veniamo al punto ci apriamo i 3 di match e i 3 di full champions niente però questi qualche qualche volta troppano qualche volta però non sempre qualche volta a me quando registro non mi troppa niente perchè lo sa lo sa oh che è che era natale natale si ti ha così un'altra volta addirittura dei bruidi mi dai di natale 92 93 ma massa e' una pilba 93 oh pure lukaku vicino ok visto che droppavano poi ci abbiamo i full champions niente schifo niente schifo schifo di schifo mirano no questi questi qui mi dai oh what's to watch visto ragazzi questi budubuz lo non lo cava bububuz full champions va bene va bene va bene va bene va bene 4 va bene arias va bene va bene 3 toti 3 oh natale un'altra volta ma questo fa un po' più schifo di quell'altro però almeno è natale bene danni alves che schifo oh yeah i toti proprio bisogno no no come sa che merà apro dai si dai compra il monumento se dai dammi oh l'altra volta mi ha cagato ti ti chi ri ri chi ri ri no l'altra volta me l'ha dato dai 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 niente ragazzi miei ragazzi zero che cagava if almeno grazie le soddisfazioni di zuber gli ultimi due compri moment ti prego l'ultima possibilità almeno anche se la più scarsa da me manco questi questa volta ma troppato una volta non questo questo fa schifo anzi no ma ne vado sono bravo guarda v champions ma non è uno di me ci sono mi spende 75 mila crediti romelo luca con la 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 romelo luca ti prego uno me lo vuoi dare invece da me dico basta costi all star niente o regà niente sa è buonissimo sanchez ma se io ho questi pacchetti è perché voglio quello che c'è dentro ma ho detto una cosa stupida non fa niente niente ragazzi ragazzi quando registro zero l'ultimo pacchetto niente bernardo silva bernardo silva ma che li avrò affari che li avrò affari ma di match ehi basta 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 c'è billy mhm ma quali garantito a me deve avere un toti garantito dai oh ho visto che gli ho star cagano porca miseria spagnolo cb3 oh ma veramente ah no isco isco che pacchetto isco oh ma che è due workout di 288 il più di fila portoghese francese chi è la casetta pogba polla pogba madonna oh non pensavo che cagavano così dai un altro no no eh sì vabbè magari magari un altro vabbè raga dai la magia è finita dai e invece vabbè senti io mi apro questo qui che me poi mi apro una tre di questi ce la faccio di 370.000 no vabbè ne apro uno basta morello e basta e ci apriamo gli ultimi 6 ce la faccio ce la faccio ce la faccio che ita che ita che ita aia neanche bagnerine niente raga ciruzzo l'abbè l'abbè lo gioremo no è mio però sta roba la si lasciata qua mamma ma non la si è spostata neanche le forbici si è messa a posto i libri qua sopra e su scusate mi sono accorto comunque abbiamo gli ultimi pacchetti proprio 180.000 credi punto can che ci apriamo una due ce la faccio 120.000 no 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 vabbè mi apro uno di questi e poi mi apro uno di questi 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 qui questi raga miei preferiti e l'ultimo questo oh icon 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 ti prego no roberto carlos roberto carlos buono visto abbiamo chiuso in bellezza 600 credit abbiamo chiuso in bellezza se il video vi è piaciuto polizia e non so commentate se non si iscrivete iscrivete posta apprendete what's up si chiama bella raga